A sto giro solo due puntate, i miei disturbi ossessivi vogliono uccidermi, ma 25 diviso 3 non si può fare, quindi a me no. Iniziamo la puntata con un flashback, subito ragazzi voglio vedere la partita che succede, poi la vittoria del Karasuno contro i Wakutani. Lo sappiamo già quello che è successo, ma che cazzo... Ah, dove era andato Yamaguchi a scusarsi con Ukae? Dovevo essere più aggressivo, e invece sono stato un codardo. Dammi un'altra chance, ti prego! E ok, subito al presente, buono buono, con Yamaguchi a punto, che a sto giro vuole spaccare pure lui il culo alla Josai, vai, vola Yamaguchi, ti prego! Comunque, nananana, che stavamo, cane rabbioso in battuta, Daishi, grande capo, riceve subito ma la manda di là. E Matsui fa fare punto alla Josai, stanno vincendo di troppi punti, porco! Iniziamo benissimo. Raga, indietreggiamo. Tanaka la prende, ok, punto, dagli, ok, recuperate. Inata in battuta? No. Yamaguchi! Senti, a sto giro non te lo ripeto quanto sei bravo. Massacrali! E siamo anche in un momento critico, di nuovo, pressione per i Yamaguchi, perfetto, vai, perché no, perché no? E Inata lo sostiene. Fai dieci punti! E lui sorride. Dacci dentro! Lo sostengono tutti con tanto di balletto, che carini! E Yamaguchi pensa. Flesce! Di nuovo. Dopo il fischio dell'arbitro, hai otto secondi per servire. Quindi, con calma. Tsukishima si parla la testa. Non ti colpirà, quindi piantala! E anche Ikawa nota che è diverso. L'arbitro fischia e il tempo si ferma. Respira, Yamaguchi. Batte! È fuori, cazzo! Gli è riuscita la flottante. Gli è riuscita la flottante, cazzo! La palla ha cambiato direzione all'ultimo! Ha fatto un esi flottante! Ah! Urlano tutti quanti! E Noshita e Shukabara devono trattenere Inata e Nishinoia. Qualcuno trattenga me! Ah! Oddio! È fantastico! Che momento bellissimo! Eh! Mica è stato chissà che cosa! Tsukishima che cazzo stai dicendo? In questi cinque mesi, si è allenato più di tutti nel servizio. Tsukishima! Oh! Stai dicendo che noi siamo pigri? E Noshita, l'altro membro del club dei codardi, capisce. Andrà tutto bene. Dopo essere fuggiti, ci sentono schifo, sai? Ok. Quel punto dà inizio al contrattacco! E vai! Deve battere di nuovo! Canne rabioso fa per ricevere! No! Due punti di fila! Ma non sto per piangere, sei un mito Yamaguchi! E andiamo con la terza! Per ricevere il flottante è meglio il palleggio. Ok cazzo! La Josai fa per attaccare, Iwaizu mi schiaccia. Yamaguchi riceve pure! Con la spalla! Col cazzo che lascia il suo turno a servizio! Kagyama prende Tsukishima, fa punto! Oikawa! Rosica! Cazzo 23 e 22! Hanno praticamente recuperato! No! No! Sto zitta! Ancora uno, Yamaguchi! Brick! Cazzo! Oh! Hai fatto chiamare un timeout alla Josai ma ti rendi conto grande! Yamaguchi ha dolore alla spalla e non potrebbe esserne più felice! Riprendiamo! Ancora uno, Yamaguchi! E ripensa i suoi allenamenti! Mira appena appena sopra il nastro! Ha fatto la mossa infame! Insomma, ma se la fai tu va benissimo! Onesto non sei infame, sei solo fantastico! Quarto punto di fila! Sono di nuovo pari! Mano che emozione! Che culo eh! No! Non è solo culo! E Oikawa... No! Oikawa, senti sei un grande capitano! Io ti adoro, lo sai! Ma in questo momento devi tacere e rosicare! No! Ok! Raga! Calmiamoci! Noi siamo calmi! Siete così affidabili che mi sento inutile! Che squadra che sono! La tranquillità della Josai comunque mi preoccupa! Cazzo, ero tutta impresa bene! Due parole di Oikawa ed è finita! Perfetto! Iwaizu mi riceve! Schiacciano! Muro soft! Asai è pronto a schiacciare! Muro di nuovo! Fuori! Sì cazzo! Match point per il Karasuno! Yamaguchi è diventato l'eroe di questa partita! Ieri era zero! 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 Oggi è un guerriero! E' un guerriero! E' super concentrato! Dai! Il libero riceve! Iwaizu mi è pronto! E segna! Ma porco! No? Ok! Sei stato bravo! Iwaizu mi è bravo! Ma Yamaguchi tu! Tu sei stato fantastico! Inata rientra! Non è vero! Si sostituisce a Nishinoya! La prossima volta farò 10 punti! Sei grande! Ok! Ricominciamo quindi a giocare! Perché qui sono state solamente battute! Inizia il testa a testa! Andiamo sulle distanze! E... Appunto! Un punto a testa! 25 pari! Sugishima segna! Poi segna Kindaichi! Possiamo... Apriamo una parentesi in onore di Kindaichi per favore? Dopo tutte le vestazioni che ha subito! Io sono tanto contenta quando gli dicono che è bravo! E... Sì! Kageyama! Come sempre! Ce l'ho con te! Ora ti voglio bene ma eri uno stronzo e lo sai! Andiamo avanti! Momento molto critico! Il che vuol dire... Ho i cavo in battuta! Va bene! Comunque! Giornatemi ho per i battitori giusto? Quindi ne ha sbagliate mille mila di battute! Ne sbaglierà un'altra! Che cazzo di potenza! Nishinoya! Fratture? No? Tutto a posto? Ok! Shit! Va bene! Hanno fatto due punti di fila! E... Tocca di nuovo i cavo a battere quindi! Dai ci è preoccupato! Lui e Nishinoya sono i migliori in ricezione! Ma... Potrebbe non bastare! Asai ci dà una mano? Invece... Oh! Uka è tranquillo! Dopo tutti i servizi della squadra rompibraccia e pure del fukuro d'ani! Siamo pronti a ricevere! Cazzo! Uka ma queste cose non le dici mai ai giocatori! Perché lo dici solo a Takeda? Ok! Uka batte! Daishi la prende! Kindaishi! Ho appena detto che sei bravo! Infatti la spinge! Ok! Tanaka la prende! Asai è pronto a schiacciare! Ricevuta! Non sto respirando! Uka wa la alza Iwaizumi! Tsukishima è pronto a murare! La Josai ha vinto il secondo set! No! No! Rabbia! Rabbia! Cazzo di rabbia! Ok ci giochiamo tutto quanto nel terzo set! Vabbè ovviamente ci doveva essere il terzo set! Però no! Madonna sono incazzata nera! E in nata invece c'è... È in presa bene! Yamaguchi rosica! Invida i servizi di Ikawa! È un grande! Infatti è vero quanto sono in conflitto! Madonna! Comunque un po' di lodi a Yamaguchi! Tutti quanti che lo sostengono! Bravi! Prendiamola bene! Massacrateli! Tutti flashback delle azioni spettacolari tra Josai e Karasuno! Io vedo un attimo a piangere! Ora torno! I coach parlano alle rispettive squadre! Siete grandi! Sei! Tenete quella fottuta palla in campo! Sì! Distruggeremo la Josai! Karasuno! Fight! Ma come mai prima d'ora? Iniziamo con un servizio da Josai e... Punto della Josai? Ikawa di nuovo in battuta! Ma perché batti sempre tu? È importantissimo fermarlo subito! Per una questione psicologica è perché non possono farsi distanziare subito! Battuta! Josai la riceve e la manda di là! E punto di Cane Rabbioso! Cagnaccio di merda! Ikawa batte di nuovo! Dai ci riceve e... Riceve per bene! Muro è fuori di Kanaka! Sei fantastico! Ok, hanno fermato i servizi di Ikawa e Cane Rabbioso sta rosicando! Ansia! Tsukisha il servizio e subito schiacciata di Cane Rabbioso! Punto! Ikawa fa un po' un'analisi di tutto ciò che bisogna risolvere! L'asso, cioè Weizumi che è un grande, Cane Rabbioso e servizi di Ikawa! Perfetto! Ma vanno avanti! Con il testa a testa! Hanno concluso un'intera rotazione, quindi di nuovo sa in battuta e fa un ace! Grandissimo! Quella dopo la recupera nel punto della Josai! Sto sudando, lo giuro! Di nuovo Ikawa in battuta! Va bene! E la difesa è schierata! Battuta di merda! Perfetto! La ricevono! Ultimo tocco di Cane Rabbioso! Tsukishima dice qualcosa a Tanaka e... Murano! Sei! Dai cazzo! Tsukishima e Tanaka sono scambiati di posto all'ultimo a caso! Ciò perché, come ci fa notare, quello che ormai è il santo della situazione! È Noshita! Tanaka sta sfidando direttamente Cane Rabbioso! Gli ha fatto più volte delle schiacciate tra parallele e mani fuori E al contempo Cane Rabbioso fare le parallele proprio dove è stata Naka Ma visto che Tsukishima è più bravo a muro Scambiandosi di posto sono riusciti a bloccarlo Tsukishima, il mio odio e amore verso di te comunque sta diventando amore, sappilo E... Cane Rabbioso schiaccia Fuori! Il carasone è in vantaggio! Hanno recuperato! Rendiamoci conto per favore comunque Ok? Tanaka ha sfidato Cane Rabbioso Tsukishima l'ho capito e ha sfruttato la cosa Mai visti questi due combattere in questo modo insieme? Cioè... Non che fosse calcolato Sì, da parte di Tsukishima sì, ma Tsukishima è imbattuta di nuovo Brick per la Josai Flashback! Ovviamente! Cane Rabbioso si allena da solo Non va al club perché non sa giocare in squadra Nel caso non si fosse capito Mamma mia, pure da piccolo era inquietante Ma perché gli piace la palla a volo? Boh Però... Dai, che bel sorriso che ha fatto quando ho servito bene Fine Flashback Cane Rabbioso sbaglia 10-8 Il giocatore non sta più tanto 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 bene Oh! Tranquillo! Wow! Che fai? Tocchi? Non si tocca! Accociam... I wow! C'ho sgridato tu mentre io mi nascondo dietro di te Grazie! No! Cambio! Cane Rabbioso esce! Oh! Ok! Buon per noi direi! Devi calmarti se vuoi continuare a giocare No! I compagni lo prendono per il culo Cioè, non i compagni Solamente lui Yabba, il numero 6 Sai, a me non sta per niente bene che tu faccia la testa di cazzo Rovina l'ultima occasione dei senpai E... Cosa dicevi sul provocare fratture agli avversari? Te lo faccio provare sulla tua pelle Cane Rabbioso si incazza ma... Boh, non lo so Cioè... Ha rispetto verso quest'altro giocatore? E io che ti credevo un coglioncello Ah, lo sono! Ma tu sei un membro della squadra Quindi aiutaci a vincere Vabbè, torniamo alla partita? Pallonetto di Kumi Cagliamolo ha capito E punto del Karasuno Ok Va bene, perfetto Non so cosa è successo nel frattempo Ma ottimo E Cane Rabbioso rientra Cioè, quanto tempo è stato fuori? Vabbè, come volete voi Io Ikawa subito sfida di lui Cioè, come si fa a non amare Ikawa? Dai Gliela passa e continuiamo il flashback Il personaggio giocava da solo E un tizio a caso proprio va da lui Hai scelto la via facile isolandoti, eh? Giocare in squadra è difficile Le interazioni sociali Ma come pretendi di giocare a pallavolo da solo? È difficile, ripeto Ma se ci riuscirai Vi avrai delle emozioni davvero belle Torniamo al presente Canonata Seguita Dalle urla di sostegno e di gioia della squadra No, raga Non potete farci affezionare pure a sto stronzo, dai Continuiamo il testa-testa Cane Rabbioso in battuta Sei stato bravo Grazie Azz Sugawara riflette Non so davvero io cosa avrei fatto Se quello fosse stato in squadra con noi Ikawa È incredibile Lo sappiamo Pageta ci illumina comunque In quanto a squadra unità Non è che noi ci dobbiamo lamentare, eh? Ma la Josai rimonta Pareggio Cane Rabbioso batte Inata schiaccia Recupero di Weizumi Oh! Ha fatto un rolling thunder comunque, eh? Punto del carasuno, però Inata sta rosicando tantissimo Le sue veloci non stanno facendo niente E anche Kageyama lo sa 15 pari E oikawa in battuta Di nuovo! Ogni volta che oikawa va al servizio Sento la mia vita accorciarsi E c'hai ragione! Tu non puoi capire quanto sto sudando Battuta Daishi recupera Ma la mandata di là Oikawa deve alzare a Kindaishi E L'altro flashback a casa In passato lui gli aveva chiesto delle alzate un po' più facili E oikawa Aveva detto no! Ma come? La regola non è che l'alzata migliore è la più facile da schiacciare? No! Il capitano dagli ordini Il capitano infatti sta dando gli ordini Mia la nave e io capitano Perché io so Che tu ci puoi arrivare Madoka è schiacciata Posso di fare per entrambe le squadre per favore C'è è stato un punto bellissimo E la Giosai è in vantaggio Oikawa batte di nuovo Mi scinoia la prende Sei grande Contesa Kudishima vince Dai che zucchi Ma sei stato mitico Inata passa in prima linea E sostiene che il grande red è davvero fantastico Ma finché ci sono io Il più forte sei tu Bellino che sei Ma se stanno ricevendo e parando ogni tua schiacciata Quanta sicurezza immotivata Mi piace Tanaka Ti adoro Fortuna che ci sei tu a spezzare la tensione E andiamo avanti Continuiamo del testa a testa Ormai sempre lì andiamo a parare Mi sono rotto il cazzo Voglio questa palla Inata ci mette un po' troppa enfasi E capisce di aver fatto una stronzata E' troppo vicino alla rete E Kageyama lo sa Vabbè però Volevi la palla? Te la passo uguale E punto! E la puntata finisce così Madoka è palle Vabbè le ultime La fine di questa partita Ah Ansia Hype Aiuto